Quando hai voglia di qualcosa di più di un caffè, lo sai che cosa puoi preparare? La crema al caffè Tutto comincia con un buon caffè preparato con la mocha E ancora caldo, lo andiamo a zuccherare Mi raccomando non ridurre la dose perché lo zucchero ci servirà non solo a conferire dolcezza Ma anche a dare struttura alla nostra crema Mescoliamo bene per farlo sciogliere E il più è fatto Adesso dobbiamo semplicemente lasciar raffreddare completamente il nostro caffè Ci vorranno circa un paio d'ore in frigo Caffè, panna e ciotola ben freddi Andiamo a montare la panna E appena comincerà ad addensarsi leggermente andremo ad inserire a filo il caffè E montiamo fino a questa consistenza Gli ultimi colpi li diamo a mano per evitare che la panna vada oltre E la crema al caffè è pronta Possiamo gustarla subito oppure conservarla in frigo Però mi raccomando prima di servirla ricordatevi di riprenderla un po' con la frusta Un abbondante spumone di crema E concludiamo con uno spolvero di cacao e un chicchino di caffè E la pausa caffè dei campioni è servita Semplice e buonissima! Buon appetito!